E ci riesce a metterne a segno un'altra, 12 a 13, 9 secondi a disposizione, presa di ferro e bersaglio e la regia non ci fa vedere il colpo del 13 pari, molto pericoloso togliere la maschera ora Incredibile Lice Volpi, 13 pari E ce l'ha fatta, ha raggiunto la sua avversaria proprio sul finire del tempo Ora un minuto a disposizione delle due atlete Che dovranno tirare In caso il tempo dovesse finire Non finirà il tempo perché ha toccato Inaderi Glazova e ha vinto la medaglia d'oro Inaderi Glazova e ha vinto la medaglia